Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Sean Brun, io spero di averlo letto bene perché la E con l'umlaut, non so come si pronuncia in tedesco, comunque Sean Brun dovrebbe essere, perdonate la mia ignoranza, gioco che mi ha mandato la Giochi Uniti a casa e io ringrazio veramente di cuore anche perché è iniziata la collaborazione con la Giochi Uniti e è il primo gioco che ci mandano a casa per recensirlo, quindi grazie alla Giochi Uniti e Strate Libri, è veramente un onore, un piacere collaborare con voi e speriamo che possa essere una cosa a duratura. Grazie ragazzi tra l'altro per un bel gioco, ma al solito la recensione è la parte finale, il voto è la parte finale. Questo è un gioco a cura di Tommaso Bagnoli, come potete leggere davanti, poi vi faccio una veloce spiegazione di tutto, che è un ragazzo che ha vinto il premio Sir Chester Cobblepot e ha vinto il Nerd Play Award del 2016, se non erro, perdonatemi a Modena, non ci sono mai stato, dovrebbe essere laggiù. Praticamente dove vengono proposti, soprattutto con questo premio, che è un premio di grossa importanza riconosciuto a livello europeo, che è quello del Sir Chester Cobblepot, vengono proposti tutti quanti i migliori progetti che ci sono sul campo, ovviamente i migliori prototipi, vengono sorteggiati, vengono provati sul campo, giocati, e uno soltanto ne esce ed avrà una pubblicazione sicura sul mercato. E questo Schönbrunn di Tommaso Bagnoli ha vinto questo premio, che è una grandissima riconoscenza, sicuramente una delle più grandi che c'è in Italia e, ripeto, anche all'estero a livello di board game, e ci ha portato questo prodotto. Un prodotto dalla fortissima tematica storica, un gioco ambientato nella Vienna del 1814 al 1815, e ovviamente nel palazzo Schönbrunn, che è il nome del palazzo di Vienna, si ritrovavano tutte le potenze politiche dell'epoca, che dopo la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche si trovarono per sancire la pace. E appunto ritrovandosi per contrattare la pace, ovviamente tutta quanta, perché poi sarebbe stata modificata anche la cartina geopolitica dell'Europa, si presentarono tutte le grandi potenze, come la Gran Bretagna, la Francia, la Russia, la Prussia, la Spagna, anche presenti, e in questo anno qui intercorso si ritrovarono tutti quanti nel palazzo di Schönbrunn a Vienna. E praticamente fu un meeting dove arrivavano tutte le delegazioni delle varie nazioni, portandosi dietro cortigiani, ministro degli esteri e quant'altro, e fu la prima volta in Europa, proprio storicamente parlando, che le nazioni si trovarono sedute al solito tavolo per contrattare e far sì che non ci fossero più guerre. Quindi per trovare una pace e ovviamente vari risarcimento e cose varie che potessero andare bene a tutte le nazioni sedute al tavolo appunto del congresso di Vienna, che veniva nominato anche congresso danzante per il fatto che c'erano anche balli a corte e cose del genere, come avrete visto sicuramente in tanti film di quell'ambientazione. Tra l'altro il palazzo di Schönbrunn a Vienna è diventato patrimonio mondiale dell'UNESCO, tipo nel fine anni 90, primi del 2000, ed è possibile visitarlo ad una delle attrazioni più belle che possano esistere, quindi io spero di andarla a vedere un giorno. Unboxing, scatola del gioco, vedete la scalinata del palazzo di Vienna di Schönbrunn, e tutte quante qui le corte che ci sono con i vari delegati che venivano mandati appunto per, sempre tra virgolette, sancire la pace, che non ci fossero più guerre dopo le grandi guerre che c'erano state, però ognuno li aveva anche i suoi diritti, i suoi possedimenti, e sulle varie trattative che poi avrebbero dipinto le nuove cartine dell'Europa, quindi non andavano per fare danze oppure anche per ritrovarsi e, come vi ho detto, sancire la pace, ma c'erano anche grosse matasse politiche da sbrogliare. Come sempre la politica è sempre l'argomento principale in mezzo a queste cose, nient'altro. Apriamo. Regolamento di gioco, scritto bene, pieno zeppo di esempi, anche perché il gioco ce n'ha molto bisogno, complicato, e sia chiaro, complicato non vuol dire difficile, però a un giocatore non molto avvezzo come me ci è voluta più di una lettura, e soprattutto perché non ci sono. Quello che vi sto facendo è il primo tutorial che ho trovato online, e non ce ne sono altri, quindi comunque non ho avuto nemmeno punti di riferimento. Non è difficile il gioco, però diciamo abbastanza complicatino da capire alcune meccaniche. Token vari, che sono segnapunti, corona del cerimoniere, tutte quante le dame per danzare che rappresentano le danze dei ricevimenti, tabellone di gioco, poi ve lo faccio vedere aperto con i simboli delle varie nazioni, schermi di cartoncino, perché in questo gioco si gioca coperti, alcune cose scoperte, ma la maggior parte è coperte, nessuno vi deve poter spiare, questo nel caso è della Gran Bretagna, vedete, double fass, e questo invece, ad esempio, è della Spagna, e anche questo c'ha fronte e retro. Capi delegazione, delegati e ministri degli esteri, questi sono dei meeple che, vedete, hanno tutti quanti un numerino sotto, che poi vi faccio vedere meglio dopo, che serve per vedere l'ordine di iniziativa e come piazzarli nel palazzo di Vienna, appunto, per comprare le varie azioni. Ci sono di tutti quanti i colori per le varie nazioni. Segnalini dei favori politici, anche questi grigi piccolini e con dei numeri dietro, e le varie carte dei mazzi di gioco, che poi alla fin fine non sono tantissime, quindi per quello non vi preoccupate. Questo è il tabellone di gioco, dove c'è il tracciato dei segnapunti, che arriva fino a 30, ma ovviamente con un più va anche oltre, il tracciato della gerarchia, che vi faccio vedere successivamente, e poi le varie aree di gioco, divise in 5 zone, dove ci sono le carte dei risarcimenti, che sono 1, 2, 3, 4 e 5. E per l'esattezza, partendo dal mazzo numero 1, sono i mazzi obiettivo, indennità, mazzo alleati, il mazzo 5 non c'è, perché vi faccio vedere una partita da 3 a 4 giocatori, il mazzo 5 si fa solo una partita completa, da 5 o 6 giocatori, quindi andiamo oltre, non ci serve, il mazzo 3, che è il mazzo degli ausili, e il mazzo 4 in fondo, che è il mazzo invece dei trattati. Completano qua giù al centro il mazzo dell'equilibrio, che è semplicemente la prima carta degli altri mazzi, quindi in una partita 4 degli altri 4 mazzi, numerati da 1 a 4 con i numeri romani, messe in ordine decrescente, quindi da quella col valore 4, a quella col valore 1 in fondo, e questo è il mazzo dell'equilibrio. Ora mescolate i favori politici, che sono questi, vedete, tondini, qui con dei numeri dietro, che ovviamente devono sempre essere messi coperti, non si devono vedere, quindi le prendete, le mescolate insomma in un sacchettino, anche in mano così, e poi praticamente li pescati, ripeto, devono essere sempre coperti, e li andate a mettere in questi seglianini grigi, praticamente ce ne sono uno, per ogni carta del risarcimento che vedete in fondo, quindi in una partita 4 ne dovrete mettere 4, in una partita 5 o 6 giocatori, dovrete mettere anche le carte, risarcimento a livello 5, e quindi anche uno qui, comunque io un tanto li metto dappertutto, e poi vi faccio vedere dopo come funzionano. All'inizio del tracciato dei punteggi, a livello 0, ci va messo ovviamente, il contatore, il token, della Gran Bretagna, e quello della Francia, più di tutte le altre forze in campo, ovviamente fate conto che è una partita 4, io ora come ero in campo, ho messo le due potenze politiche più famose, che hanno fatto più guerre loro che davvero l'America, tutta la sua storia, ovvero gli inglesi e i francesi. Il gioco si divide in 4 round, nel caso che partita 3, 4 o 5 giocatori, in caso di una partita 6 giocatori, invece c'è un round in più, si va in 5, e ciascun round è diviso in 6 turni precisi, che sono il turno della gerarchia, il turno degli incarichi, il turno del complotto, il turno della cancelleria, il turno del congresso, e il turno del recupero, quindi ciascuno di questi round è diviso in 6 sottoturni. Prima che inizi la partita, ricordatevi sempre di dare tot token ovali di ricevimento, vedete c'è una dama, una ballerina al centro, ne dovete dare per ogni giocatore un numero, per quanti giocatori sono in campo, quindi a ogni giocatore in una partita 4, gliene darete 4, che questi potranno essere usati per strategie politiche, cose del genere, e li mettete dalla loro parte del tavolo. Davanti allo schermo della Francia, vedete elencati tutti quanti i delegati, i valori dei delegati che sono qua giù in fondo, la scheda della nazione, la scheda del personaggio, il capo della delegazione inviato laggiù, che quindi come vedete ha una scheda personaggio, con delle abilità varie ovviamente, e poi qua giù sotto invece è una schedina che vi fa vedere come si evolvano i turni, uno dopo l'altro, così per ricordarvi le mosse, e queste sono le cose che devono essere messe, scoperte davanti a questa specie di piccolo paravento, pubbliche che tutti gli altri giocatori possono vedere, mentre invece dietro dovete sempre mettere, in caso della Francia, a una carta particolare, che ha un obiettivo, che è restaurazione, confederazione svizzera, una missione che vi potrebbe dare punti per vincere la partita e tutto quanto, e poi dietro vedete tutte quante le pedine che sono i delegati, questo qui col cappellino e il capo della delegazione, e poi il ministro degli esteri, ovviamente tutti sotto hanno un valore, come potete vedere, e questi il vostro avversario non dovrà assolutamente mai vederli, lo saprà, perché vedendo il conto qui davanti, quando gli andrete a posizionare, lo saprà quanti ve ne rimangono in mano, ma devono essere coperti, perché fino a che sono coperti, potete vedere dietro il numero, cioè il giocatore, il proprietario può vedere il numero che è dietro, quando invece una volta che saranno messi sul tavolo, non potranno più essere girati, quindi una volta che l'andrete a posizionare, farete dove l'ho messo il 5, e l'1 dove l'avevo messo, cavoli vostri, non potrete più assolutamente toccarli, fino a che non finirà il turno attuale di gioco, il round di gioco, quindi è un gioco anche molto di attenzione, e di soprattutto di memoria. Primo round di gerarchia, bisogna mettere tot personaggi, tot delegati, che è il rango praticamente più basso, qua giù, che è nella gerarchia del palazzo di Seanbrunn. Praticamente voi, come vi ho fatto già vedere nel gioco di Rurik, bene o male la meccanica è la stessa, dovete prendere un vostro delegato, uno di questi, me ne prendo anche uno dell'Inghilterra, così per farvi vedere un po' l'esempio, e li dovete posizionare nella gerarchia, e voi ovviamente sapete il valore che c'è dietro, perché l'avete visto prima di tirarlo fuori dal vostro schermo della nazione, e il vostro avversario sa qual è il punteggio del suo, ma fra di voi non conoscete i vari punteggi. Quando tutti quanti i giocatori ne hanno scelto uno, facciamo conto è una partita a quattro, ma vi ripeto, vi faccio solo vedere Francia e Gran Bretagna al momento, vanno rivelati, quindi questo della Francia ha un valore di cinque, questo della Gran Bretagna ha un valore di uno, andando dal numero più basso al numero più alto, si vanno a posizionare, quindi l'uno che è il più basso dei due va sull'uno, e il cinque che è il secondo andrà sul due, ovviamente fate conto che in una partita a quattro ci sarebbero state anche il tre o il quattro, ovviamente magari qui ci andava un due, qui ci andava un quattro e il cinque andava per ultimo. Il giocatore intanto che si prende la prima posizione, vedete ha la corona, gli viene dato questo token, che è il token del cerimoniere, che è la cosa assolutamente più importante che c'è nel gioco. Ah, scegliete bene all'inizio come mettere i vostri delegati nella gerarchia, perché questa gerarchia ve l'ha portata avanti per tutti e sei turni, fino al round successivo non cambia più eh, quindi occhio, pensateci bene a quello che fate, perché un valore alto vi dà più punteggio, come il Rurik, un valore alto vi dà la possibilità di fare molte più azioni potenti e cose del genere, ma un valore basso si prende direttamente il cerimoniere, quindi nella fase di gerarchia semplicemente andate a mettere tutti quanti i vostri delegati e andate a posizionarli a seconda del punteggio, dal più basso fino a quello col punteggio più alto. Sempre in questa fase della gerarchia, i giocatori possono scegliere di spendere un tot di token ricevimento. Vi ricordo che ciascun giocatore all'inizio della partita ne ha quattro ricevimenti, che poi possono anche essere guadagnati nel corso della partita dell'avventura, quindi all'inizio ne potete spendere quanti ne volete solo nella fase gerarchia per alzare il punteggio di 1 a 1. Quindi io dico, uso un ricevimento, alzo il punteggio di 1, ne spendo 2, alzo il punteggio di 2. Ricordatevi che una volta spesi rivanno nel cumulo in comune, sono persi, non li potete recuperare al turno successivo, li potete recuperare soltanto in precise momenti della giocata e di tutto quanto. Quindi occhio a non sprecarli, perché sì è vero, li spreco tutte e quattro e faccio 4 punti, quindi da un bel distacco, l'Inghilterra da un bel distacco alla Francia, però insomma poi dopo non ce n'è più, quindi te li devi usare abbastanza con parsimonia. La prima carta dei risarcimenti, a parte quella centrale, che era un miscuglio di tutti gli altri mazzi, dovete sempre girarla a faccia in su, che sia facilmente leggibile da tutti i giocatori presenti. In una partita a 4, ciascun mazzo è composto da 4 carte. Sempre in questa fase qui bisogna andare a girare un favore politico, che sono questi, li vedete tondi e grigi, fate il conto di quante carte ci sono nei mazzi, che sarà sempre lo stesso numero per tutti quanti, e che ne so in tutti i mazzi di partenza c'è 4 carte per ciascun mazzo, quindi l'obiettivo numero 4. E questo qui si gira questo. Il simbolo che è riportato lì sopra rappresenta l'influenza e il prestigio che tutti i giocatori potranno guadagnare, quindi il primo a seconda delle carte che avete nei mazzi, quindi 4 e si va a girare quello del 4, e il secondo lo sceglie il cerimoniere, quindi vi ricordo il giocatore primo sulla gerarchia e che ha preso la corona del cerimoniere, e lui potrebbe dire, va bene, visto che quello lì è stato rivelato, voglio rivelare anche questo qua su, del 3, che ha un valore di 3 invece. Successivamente, fatta la fase della gerarchia, si passa alla fase degli incarichi. Nella fase degli incarichi, ciascun giocatore deve posizionare due delegati coperti, quindi in questo caso qui sempre in partita a due non si può giocare, minima tre, però Gran Bretagna rossa e Francia blu. Deve posizionarne due sul proprio simbolo, quindi nel caso la Francia qui e la Gran Bretagna, qui vedete sempre tanto c'è il bordino del colore della nazione, e il giocatore prima di posizionarli, al solito può vedere il valore che c'è sotto, quindi prima di posizionarli guardateli, per il valore che c'è sotto in questo caso è 0 e 3, e poi li potete posizionare, o tutte e due nello stesso quadrante, o uno in un quadrante e uno in un altro. Vi ricordo che solo in una partita a quattro sono quattro, i quadranti dei risarcimento, in una partita a cinque c'è anche quello in alto. Comunque, in questo caso qui, usando soltanto questa parte del tavolo, potete dire, va bene, ne metto uno qui e uno qui. Mentre invece l'Inghilterra fa, va bene, anche io lo stesso, ne metto uno qui e uno qui. Vanno sempre posizionati ricordandosi delle carte che ci sono sotto, che in questo caso qui, il mazzo di carte 4 corrisponde ai trattati, mentre il mazzo di carte col valore 3, dietro in copertina, quando le carte stanno coperte, rappresentano gli ausili. Prima fase, posizionati questi due, a testa per ogni giocatore, a parte la Gran Bretagna che ne potrebbe mettere tre, perché c'è una regola speciale, però in questo caso vi faccio sempre vedere bene o male un'infarinatura, e poi potete scegliere di mettere anche il capo delegazione, che è quello col cappellino. Ne avete soltanto uno, che ovviamente è il vostro personaggio speciale, con la sua abilità speciale e tutto quanto, e come capo di delegazione può essere messo su una casella dove c'è già un delegato, quindi nel caso lo potrei mettere o qui o di qua. Ovviamente il capo, ci può essere soltanto un capo delegazione per quadrante, perché vedete, hanno un simbolino in fondo, quindi nel caso la Francia abbia messo il capo delegazione qua giù in fondo, nei trattati non potranno prendere le altre nazioni. Stessa cosa magari se invece l'Inghilterra, mi devo sforzare a chiamare la Gran Bretagna, l'avesse messo qua su, non sarebbe più possibile qua giù mettere capi delegazioni, e capi delegazioni servono per dare punteggio e ovviamente bonus. Oppure potete decidere di prendere il vostro capo delegazione, non metterlo sulla mappa del palazzo di Schönbrunn, ma metterlo davanti a una qualsiasi nazione, e quindi magari la Francia in questo caso potrebbe dire lo metto davanti al paravento della Gran Bretagna. Facendo questo però, perché poi dopo c'è un perché, vi spiego la regola, dovrete andare a dare un token ovale di ricevimento regalato, perché state per fare un'azione di sabotaggio, tra virgolette, a quella nazione, e quindi comunque un bonus, quella nazione lo deve prendere, e gli darete una dama, una cortigiana, quindi per il ricevimento. Il giocatore della Gran Bretagna lo prende e lo mette nella sua riserva, anche così si guadagnano. Successivamente dovete incaricare tre delegati scoperti, quindi li dovete girare dalla parte di qua, tanto lo vedete anche, sono tipo a forma di cappellino, è fatta apposta la base tonda, perché li potete girare. Ne dovete mettere altri coperti, sempre dove volete, quindi al solito potrei metterne uno qui, potrei metterne uno qua, e potrei metterne uno da un'altra parte, e lo voglio mettere anche questo qui. Quindi tutti quanti i giocatori sanno che ce ne sono due o tre, nel caso della Gran Bretagna, coperti di cui non si sa il valore, e altri scoperti che invece sono lì disponibili a essere osservati da tutti quanti per costruire una strategia. L'ultimo delegato che rimane, invece, anche questo va messo coperto. Quindi in questa fase due coperti, tre scoperti, uno coperto, e il capo della delegazione che può essere messo, sia in un quadrante, che invece davanti alla parte di gioco, al paravento di un giocatore, qualsiasi avversario, scegliete voi. Terza fase invece sono i complotti. Arrivando alla fase dei complotti, qualsiasi giocatore, sempre ragazzi in ordine di gerarchia, ricordatevi che vi dovete sempre muovere in ordine di gerarchia, quindi anche nella fase dei complotti, il primo sarà la Gran Bretagna, che aveva un valore di uno. Nella fase dei complotti, il giocatore può spendere un tot, quanti ne vuole, e ovviamente quanti ne ha, di segnalini di ricevimento, quelli ovali con la dama, ne può spendere quanti ne vuole, per rivelare una qualsiasi pedina coperta, un qualsiasi delegato coperto, di una nazione avversaria. Quindi magari l'Inghilterra dice, ok lo faccio su questo, ce ne spendo uno, gira, rivela il valore, e il valore di uno. Regola vuole che, se io spendo un ricevimento, rivelo e tolgo un delegato di valore uno, due ricevimenti, tolgo un delegato di valore tre o meno, tre ricevimenti, tolgo un delegato di influenza, cinque o meno, per poi arrivare a giocarne quattro, praticamente uno li giocherebbe tutti quanti i ricevimenti, per levare un delegato di influenza sette o meno. Tolto il delegato, torna nella mano del giocatore, quindi questo qui torna in mano del giocatore della Francia, però mettiamo caso, che io avessi giocato, soltanto perché ne voglio giocare uno solo, e quell'altro ne voglio tenere, invertiamoli qui per un attimo, avessi giocato un punto, ok l'Inghilterra, avessi giocato un punto per dire, ok alla Francia io voglio rivelare questo qui, perché a me questa zona mi serve, mi serve di prendere la carta, il punteggio e quant'altro, quindi vediamo cosa succede, ne gioco uno, io giro, comunque lo rivelo eh, anche se ne spendo uno solo e lo rivelo, però non lo tolgo, perché vedete, uno solo non basterebbe a levare un valore di due, o superiore, dovrei averne giocati due, per togliere un valore da tre in giù, quindi in questo caso l'ho rivelato in bassa e non lo levo, nel caso ne avessi giocati invece due, l'avrei potuto togliere, questo verrebbe tolto, rimesso nella mano del giocatore della Francia, e ovviamente perderebbe il bonus complessivo del punteggio per questo turno. Nella fase della cancelleria, nel caso il capo della delegazione, quindi il vostro personaggio speciale, fosse stato spostato davanti allo schermo di un'altra nazione, potete fare un'azione particolare, vi ripeto che se l'avete tenuto sul campo, come nel caso qui della Gran Bretagna, vi dà un bonus al punteggio in quello che dovete fare, se l'avete spostato qui davanti, vi ricordate che al vostro avversario avete dato un token ricevimento, in questo caso qui potete prendere un qualsiasi delegato, nemico, avversario scoperto, e spostarlo dove c'è già un altro delegato, quindi facciamo conto che questo fosse stato scoperto, perché il giocatore, la Gran Bretagna l'ha giocato, o scoperto nella fase principale, oppure l'abbiamo rivelato noi con l'azione che avete visto prima, posso prenderne uno scoperto, e posizionarlo su un altro coperto. Questa è l'azione col capo della delegazione, che non vi permette di rimetterlo in mano all'altra nazione, dietro al paravento, però comunque lo sposterete, quindi in questo caso la Gran Bretagna, in questa striscia quassù, che è il risarcimento numero 3, non avrà nessuno. Quindi quassù non prenderà nemmeno un punto, saranno tutti della Francia e delle altre nazioni che saranno qui in quel momento. Entra in campo il Ministro degli Esteri, che è una figura importantissima, anche perché vi dà più due al valore. Il Ministro degli Esteri lo potete mettere soltanto dove avete ancora delegati incaricati, coperti o scoperti, quindi nella Francia o qui o qui, e ci mettete sopra il Ministro degli Esteri, che tutti quanti lo sanno, dà sempre un valore di più due. Quindi quando andremo a fare il conto di cosa c'è sotto i cappellini con i vari valori, sommeremo più due, perché c'è anche la presenza del Ministro degli Esteri. Arriva la quinta fase, che è quella del Congresso, che appunto si girano tutti quanti, i delegati incaricati, tutti, di tutte quante le nazioni, e si va a fare il conteggio. Quindi ciascun giocatore fa il conteggio dei propri e vede il valore che c'è sotto. Vengono risolti tutti quanti gli obiettivi, quindi questi qui grigi, che non sono ancora stati girati da tutte le altre parti, vengono girati, così tutti quanti possono vedere i punteggi che ci sono sotto. Ovviamente si va sempre anche qui in ordine di gerarchia, non c'è bisogno che ve lo dica, quindi si andrà sempre in ordine di gerarchia. Si va a fare il conteggio, per i delegati che ci sono, più i relativi bonus, come vi ho detto prima, del capo della delegazione o del Ministro degli Esteri, si va a fare il conteggio e la nazione che ha vinto, in questo caso qui, giriamo anche questo, sono un 3, qui invece un 4, più 2, 6, la nazione che ha vinto pesca la carta. Quindi in questo caso qui ha vinto la Francia, li rimuovete, ricordatevi sempre, la nazione che ha vinto automaticamente la rimuovete da quel quadrante e la Francia si pesca la prima carta che è girata, che è quella a faccia in su, se la prende e se la porta dalla sua parte del tavolo. Ora facciamo il conteggio qua su, anche qui la Francia ha vinto, perché praticamente da sola inglesi non ce ne sono, togliamo anche questi e la Francia ancora una volta si pesca un'altra carta da qua su e se la mette nella sua parte del tavolo. In caso di pareggi, se ci fosse un pareggio, si va a vedere la gerarchia, però questa volta in senso opposto, quindi dal più alto al più basso, non sarà la Gran Bretagna a dettare la vittoria. Tutti i giocatori che in un obiettivo hanno incaricato anche il capo delegazione guadagnano un punto prestigio e in premio si prendono anche un ricevimento, quindi questo serve per quando lo metti sul tavolo per darti manforte invece che mandarlo un po' a sabotare come avete visto i piani del nemico. Poi una volta levati tutti quanti i delegati si fa il conteggio totale per quello che ovviamente ne aveva più punti in tutti quanti e viene preso anche il conteggio dell'equilibrio che sono quelle carte che avete visto all'inizio centrali che sarebbero praticamente una carta per ciascuno dei quattro mazzi quando tutto quanto è stato mosso quindi tutti quanti i punti sono stati visti di quelli che sono rimasti sul campo ma che non hanno vinto niente quindi in questo caso la Gran Bretagna che aveva un valore di 3 automaticamente quello che ancora sul campo non ha vinto niente però c'ha il punteggio più alto vanno nelle carte degli equilibri che sono quelle il mazzo centrale unico che vi ho fatto vedere e pesca la prima carta e se la prende è tipo una specie di premio di consolazione insomma alla fin fine in un trattato come quello di Vienna tutte le nazioni devono tornare a casa con qualcosa e quindi è comunque un piccolo premio di consolazione mettiamolo così fra molte virgolette poi come se non bastasse sempre quelli che non hanno vinto quindi non hanno vinto assolutamente niente quindi in questo caso la Gran Bretagna che si è preso la carta laggiù in fondo vanno a vedere il valore di qua giù favore politico e se lo hanno super eguagliato superato in questo caso qui si perché 3 supera lo 0 automaticamente verranno premiati anche con un ricevimento quindi vedete più o meno più o meno tutti se non almeno 2 giocatori qualcosa a casa si porteranno sempre e in più quelli sono anche i punti influenza con cui potrete andare avanti punti influenza che possano essere alzati appunto vincendo il favore politico oppure giocando delle carte perché anche le carte che prenderete dai mazzi avranno delle missioni potranno essere utilizzate e quant'altro ovviamente anche queste carte vi daranno punti vittoria alla fin fine chi è che vince il giocatore che ha più punti su questo tracciato vi ricordo che il tracciato è di 30 però potete anche sfondarlo semplicemente mettete un più del vostro colore sul 30 in fondo e poi ripartitere a capo col segnalino e fate presente insomma che avrete questo numero qui più il 30 che avete già accumulato precedentemente arriva una fase di recupero in cui tutti quanti i giocatori possono scegliere sette nere o scartare carte nel caso le teniate insomma ce l'avete lì nel caso le scartiate vi daranno punti indietro ricevimenti e cose varie perché poi l'avete visto la cosa più importante del gioco alla fin fine sono le danzatrici sono ricevimenti con cui potete andare un po' a minare a sabotare un po' come era all'epoca quando c'era magari qualcuno che volevate sabotare le nazioni lo mandavano a ballare con delle belle damme o cose del genere e a quel punto lì si cercava magari che ne sai qualcuno se le portava anche a letto si addolcivano sentivano discorsi magari mentre ballavano una cosa o un'altra venivano fuori i segreti di quella nazione o stato tutte cose che poi il giorno dopo venivano usate direttamente al tavolino quindi sì qui si era a Vienna per argomentare la pace ma ognuno era lì per tirare fuori il più possibile dalla propria nazione e buttarlo su carta altra cosa importante come vi ho detto è il punteggio che chi fa più punti arriva in fonda a fine del quarto o quinto turno a seconda di quanti giocatori siete avrà vinto la partita e in questa fase qui poi si toglie tutte le cose dal tavolo i ricevimenti utilizzati non le riprendete si rifà la stessa fase se inizia praticamente un'altra volta bisogna riprendere questi qui grigi rimescolarli tutti quanti e riandarli a disporre ovviamente i mazzi delle carte non devono essere rimescolati però dovete rigirare la carta in cima che tutti i giocatori devono sapere cosa c'è sotto se non è che andate a firma a Vienna alla cieca e tutti quanti i delegati compresi anche i capi delegazione e il ministro degli esteri vengono tolti e vengono rimessi nelle mani dei giocatori questo ragazzi bene o male è il funzionamento del gioco però vi ripeto è un'infarinatura principale ah quando ripartirete con la prossima gerarchia il giocatore che si prenderà il primo posto della gerarchia avrà anche il token del cerimoniere quindi turno dopo turno cambia lo potrebbe riprendere l'Inghilterra la Gran Bretagna nel caso ce ne mettessi uno di livello basso però questa volta potrebbe magari prenderselo la Spagna la Prussia o le altre nazioni nazioni che hanno personaggi speciali con abilità speciali che non vi ho fatto vedere ma ci sono sulle proprie schede e poi anche la stessa carta delle nazioni vi da bonus vantaggi e quant'altro le nazioni sono prettamente differenti in in ogni aspetto quindi andate a vedere per i bonus che vi danno e cose del genere e questo ragazzi bene o male è il gioco ragazzi in conclusione questo è Sean Brun è un gioco complicato ma non difficile perché come l'avete visto io spero di averlo spiegato bene non è un gioco prettamente da me perché lo vedo un po' troppo basato troppo sulla matematica ma soprattutto non è tanto fatto sulla matematica che ci sono i vari valori di tenere conto sabotazione e tutto che è anche bello però più che altro basato sulla memoria memoria non ce l'ho zero proprio dovrei mangiare più pesce sicuramente ecco anche mia moglie che è da dietro e quindi se io metto un 3 lo metto ora fra 10 secondi ragazzi non mi ricordo dove l'ho messo e quindi io in un gioco del genere mi scirovino veramente da morire ed è un gioco dove ho trovato problemi anche tipo a giocare a Battlestar Galactica perché a un certo punto anche lì devi tenere conto della carta sabotaggio che hai messo nella mano perché magari sei un silone è un terior di che carta ci avevi messo alla fin fine o c'è da pensare nel 2000 a volte ti passa anche di testa insomma è un gioco di attenzione è un gioco veramente molto bello perché poi tutte quante le nazioni con i vari disegni che vedete le raldiche la bandiera della nazione ma gli stessi personaggi speciali che ci sono da butto su tutto gli stessi personaggi speciali che ci sono all'interno è tutto quanto reale qui c'è stata una cultura storica da parte degli sviluppatori del gioco che veramente li faccio un applauso della madonna si sono documentati bene ma anche hanno chiamato in causa storici che se ne intendono dell'epoca e tutto quanto comunque questo è per farvi capire che è un gioco che dell'ambientazione fa una componente fortissima per quanto non ci abbia niente di narrativa è bello da morire perché ti senti veramente un nobile dell'epoca inviato dalla tua nazione come portavoce della nazione un delegato mandato lì al congresso di Vienna al congresso danzante seduto lì al tavolo con magari un re un barone un arconte cioè delle figure importantissime che non ti potevi permettere nemmeno di averci un capello fuori posto e devi dire le cose giuste perché poi era tutto riportato agli atti per l'Europa che da lì sarebbe nata quindi devi stare attento anche a quello che dice devi essere abbastanza furbo e scaltro da metterlo in tasca all'alta nazione e una volta firmato poi dopo un cediscorsi e quindi qui si creava davvero il mondo più o meno poi è stato cambiato centomila volte però qui si creava il mondo che conosciamo quindi il gioco vi ho detto è complicato ma non difficile è complicato perché c'ha allora c'ha poche regole facili però sono un po' troppo arzigorgolate cioè sono un po' a volte inserite spiegate bene nel manuale tutto però mette un po' paura mette un po' soggezione a un gioco del genere perché uno non si sente magari in grado all'altezza anche di un gioco politico a questo livello qui è storico perché non è una cavolata questo è un gioco serio al 120% però ve l'ho detto magari quella regoletta lì ti scappa e fai come lo devo mettere il delegato vai a riprendere il manuale oppure magari anche ma il capo della delegazione lo posso usare quando mi pare ah no aspetta però non lo devo usare durante la gerarchia ma lo devo usare durante la fase successiva cioè ci sono delle meccaniche che ci vuole un po' a capirle però secondo me come dice il manuale che gli do ragione assolutamente 100% fate una partita verrà un po' così e così ne fate due ah questo ecco dove avevo sbagliato prima a metterlo ne fate tre che capite anche dove mettere magari il ministro degli esteri a tepedine alla quarta partitezza quarta partita sapete giocare spigliati e una partita magari in mezz'ora massimo massimo un'ora la fate quindi è un gioco non difficile è un gioco molto facile anzi molto più di tanti altri però è complicato da prendere in inizio ecco un po' macchinoso e mette un po' di soggezione almeno a me me l'ha messa comunque assolutamente se le devo dare un voto le do un 8 su 10 che è veramente meritatissimo per un gioco storico che veramente ti ci cala molto dell'ambientazione l'unica cosa che è negativa e positiva allo stesso tempo negativa non è un gioco per tutti assolutamente questo proprio no perché a qualcuno che magari della storia un gliene frega nulla o del congresso di Vienna che poi alla fine è durato un anno soltanto un è dall'814 all'815 magari te lo salta a pie pari però per tutti gli amanti invece dei giochi strategici è perfetto per tutti gli amanti del complotto dei giochi politici soprattutto dei giochi politici ecco un amante di Game of Thrones qui ci si diverte da morì invece per tutti gli amanti dei giochi con una forte componente politica veramente ti senti davvero il delegato che va laggiù quindi anche a qualcuno che di Vienna non gliene frega nulla delle guerre napoleoniche e quelle cose lì però magari gli piace la seconda guerra mondiale quello gioco politico ambientato ai tempi nostri quello gioco politico ambientato negli anni di Roma questo è un gioco che per quanto va fuori dai gusti personali di un giocatore però a cui piacciono i giochi di strategia e di sotterfugio politico soprattutto gli piacerà assolutamente quindi non è un gioco per tutti ma è un gioco per tutti gli amanti del genere invece quello assolutamente sì quindi un 8 su 10 meritatissimo io ringrazio ancora una volta la Giochi Uniti per averci offerto una coppia omaggio faccio veramente i miei applausi a Tommaso Bagnoli che ha creato un bel gioco bello veramente divertente e l'ho capito perché te l'hanno premiato perché merita veramente da morire bravissimo mi piace mi piace molto e come anche Master of the Galaxy onesto come sempre di un genere di cui non me ne frega niente e di un genere che non mi piace siete riusciti a fare appassionare me che non me ne fregava nulla di giochi del genere quindi ancora più per questo gli ho alzato il voto un 8 su 10 meritatissimo e grazie alla Giochi Uniti per averci offerto una copia omaggio vi ricordo ragazzi in descrizione trovate il primo link dove acquistarlo più ovviamente tutti quanti i nostri link dei social fatemi sapere cosa ne pensate sicuramente metto le mani avanti sicuramente qualche regola a me è scappata e magari qualcosina non l'ho detto prettamente come era però ragazzi è un gioco che ve l'ho detto è la prima volta che mi trovo a recensire un gioco del genere ed è leggermente complicato magari per me spero di avervelo spiegato al meglio e tanto comunque il manuale poi è chiarissimo quindi non vi preoccupate ciao ragazzi alla prossima ciao